Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a migliori valvole termostatiche. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance. Cominciamo con la lista. Cominciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo Honeywell Home. Il termostato intelligente Wi-Fi Evome THR99-C3112 di Honeywell Home con modulo è un termostato di ultima generazione che consente di creare fino a 12 zone controllabili singolarmente. Il termostato ha un touchscreen a colori ed è accessibile da remoto con l'app Total Connect Comfort. È compatibile con Google Home e IFT. Il termostato è versatile e la programmazione intuitiva rende più efficiente il controllo del riscaldamento domestico in base alle proprie esigenze. I controlli precisi e facili da usare consentono inoltre di risparmiare denaro. Il termostato può essere utilizzato con riscaldamento a pavimento, radiatori standard, fan coil e pompe di calore. Il termostato EVO Home è un dispositivo all'avanguardia che consente di creare fino a 12 zone controllabili individualmente all'interno della casa. numero 4 Le valvole termostatiche e programmabili di Echiva sono un ottimo modo per risparmiare energia e denaro. Regolando automaticamente il flusso dell'acqua nei radiatori, queste valvole possono far risparmiare fino al 30% sulle bollette energetiche. Sono facili da installare e possono essere programmate in base alle proprie esigenze, il che le rende un'ottima opzione per chiunque voglia ridurre il proprio consumo energetico. Terzo posto CA-GT, set di quattro valvole. Questo set di quattro valvole termostatiche e programmabili offre un risparmio energetico intelligente per la vostra casa. La temperatura predefinita è di 0,5 gradi Celsius, che può essere regolata con precisione per risparmiare ancora più energia. L'ampio display di facile lettura mostra in ogni momento la temperatura, i tempi di accensione e lo stato del riscaldamento. Le valvole si montano facilmente senza intervenire sull'impianto di riscaldamento e sono compatibili con tutte le valvole per radiatori più diffuse. È possibile programmare liberamente le temperature di riscaldamento e di notte per tutti i modelli. In alternativa, i termostati possono essere azionati manualmente. Le valvole si aprono e si chiudono in modo silenzioso e senza colpi d'ariette. Numero 2. Tado Grado Testa Termostatica La testa termostatica intelligente Tado Grado è l'aggiunta perfetta alla vostra configurazione Tado Grado. Consente di gestire più radiatori o singole zone e di impostare programmi per ciascuna zona. La testa termostatica è compatibile con la maggior parte delle valvole termostatiche per radiatori, quindi può sostituire quella esistente in casa. Il processo di installazione è semplice e veloce e non richiede l'uso di attrezzi. La testa termostatica intelligente Tado Grado è un'ottima aggiunta alla vostra configurazione Tado Grado. Permette di gestire più radiatori o singole zone e di impostare programmi per ciascuna zona. La testa termostatica è compatibile con la maggior parte delle valvole termostatiche per radiatori, quindi può sostituire quella esistente in casa. Il processo di installazione è semplice e veloce e non richiede l'uso di attrezzi. Infine, il numero 1 della nostra lista, Tado Grado Testa. Il termostato intelligente Tado Grado è il controllo intelligente del vostro riscaldamento. Si adatta al vostro stile di vita, rileva quando siete fuori casa e impara da voi a impostare automaticamente la temperatura ambiente perfetta per ogni stagione e condizione atmosferica. L'app Tado Grado vi aiuta a risparmiare sulle bollette energetiche mostrandovi quanta energia consumate in ogni stanza, oltre a fornire una chiara panoramica delle tendenze climatiche e dei risparmi accumulati. Tado Grado si collega a tutti i principali dispositivi per la casa intelligente, come Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant, in modo da poterlo controllare con la voce. Con la Smart Home Skill Tado Grado per Alexa è possibile attivare il controllo vocale del riscaldamento e dell'acqua calda. L'app Tado Grado è disponibile gratuito. Sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.